Ancora bentrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 11, restano rallentamenti e code per traffico verso Firenze, tra Prato Ovest e Bivia 11 a 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Infipili possibili rallentamenti per cantieri all'altezza del chilometro 17 tra Montelupo e Ginestra in direzione di Firenze. Per le statali segnaliamo sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti per traffico tra Badesse e Siena in direzione di Siena. Ci spostiamo sulla SR429 di Valdelsa per lavori di fresature e asfaltatura a senso unico alternato e di vieto di sosta, con rimozione forzata in orario 8.18 nel tratto dei centri abitati ricadenti nel comune di Empoli fino al 10 luglio. Voltiamo pagina per il traffico aereo e il volo Firenze-Francoforte delle 10.05 al momento segnalato in partenza in ritardo alle 10.20. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!